State perdendo tempo in piccole prove di forza per misurare la capacità dell'altro. O mi decidete a combattere sul serio, o lo farò io per tutti e due e sarà molto peggio per voi! Ah, adesso ho capito che cosa è in mente, Vegeta! Mi hai fatto paura, sai? Per un attimo ho pensato che avessi deciso di... Chiudi quella bocca! Io non ho fatto tutta quella strada soltanto per starvi a guardare seduto in panchina! Va bene, va bene. Che peccato, mi ero illuso che io e te saremmo tornati a divertirci insieme come una volta. E dire che quando obbedivi ai miei ordini tu eri senza alcun dubbio uno dei migliori. Ti sbagli, io non ho mai obbedito ai tuoi ordini, non come immagini! Basta, Vegeta, fatti da parte, tu non mi interessi. Sono venuto qui soltanto per vendicarmi di Goku. Bravo, allora cerca di sbrigarti e non perdere tempo in chiacchiere! Non lo capisci, finalmente sono tornato in vita. E finalmente oggi avrò la mia rivincita. E mi voglio divertire, mi sembra più che legittimo godermelo un po', giusto? Quindi cerca di pazientare. Poi ti accontenterò e finirò anche te. Se ne sarai capace, non vedo l'ora. Vegeta, forse te ne sarai accorto, ma ti assicuro che Freezer è diventato incredibilmente più potente dall'ultima volta. Me ne sono accorto da solo! Goku, anche tu sei molto migliorato. Ho saputo che hai addirittura sconfitto Majin Buu, mi congratulo con te. Non avrei mai immaginato che potessi diventare tanto forte. Beh, te l'avevo detto. Allora, volete decidervi o no? Io posso aspettare, ma sappiate che la mia pazienza ha un limite. Allora, ho saputo che la mia pazienza ha un limite.